come il padre ha amato me anche io ho amato voi rimanete nel mio amore se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga perché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo conceda questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri cari amici in questa sesta domenica di pasqua continuiamo la nostra catechesi sulla parola di dio che è poi una catechesi sull'amore l'amore non ha confini se dovessi dare un titolo a questo a questo questa riflessione direi l'amore non ha confini l'amore da dio che vuol dire vuol dire due cose non so se ci avete mai pensato a questo gioco di parole l'amore è da dio e l'amore da dio cioè chi ama come dio è dio fatto uomo cosa vuol dire che l'amore da dio paolo scusatemi pietro a un certo punto viene chiamato da cornelio quel famoso testo di giaffano viene da cornelio e pietro superando la prima diffidenza si rende conto lo dice poi benissimo nella catechesi di quel nel vangelo negli atti apposto di questa domenica mi sono reso conto che dio non fa preferenze di persone e questo è già importante perché il vero amore nasce da un amore che va oltre il padre ha amato a me così ho amato voi cioè l'amore di gesù non è mai fine a se stesso ma è un amore che il padre ha dato al figlio il figlio ha dato agli altri quindi l'amore è estansivo cioè un amore non è mai protettivo ma è espansivo e allora questo i primi cristiani l'hanno dovuto imparare perché perché venivano da un'esperienza ovviamente un po etnica perché i dodici erano ebrei quindi aprirsi ai pagani è stato faticoso per due motivi a perché il paganesimo veniva visto come un pericolo di idolatria perché per tanto tempo gli ebrei ha detto attenzione a non a seguire la torà perché se voi iniziate ad accogliere anche gli altri correte il rischio anche di accogliere le loro idolatrie mentre invece tu puoi accogliere l'altro ma non perché diventi come l'altro ma perché dai all'altro quello che è stato la tua ricchezza ma questo passaggio non era facile secondo perché il cristianesimo è una religione trinitaria cioè una religione della comunione non della solitudine di un unico dio ma di un dio che si fa comunione espansivo il padre ha mandato il figlio il figlio e il padre ha mandato lo spirito cioè una religione del mandato l'amore è un mandato noi invece pensiamo l'amore in senso do io ti amo perché così amandoti tu l'amore è gratuità assoluta vedete è completamente diverso da un modo di pensare io amo non per ricevere ma perdonare lo abbiamo detto in questi queste domeniche in questo senso rimanete nel mio amore vuol dire state attenti vangelo è state attenti a non codificare l'amore secondo i vostri programmi secondo le vostre delusioni vedete quando noi diciamo ti ho amato una volta ti ho amato due volte adesso basta basta perché mi hai dimostrato che non no quando una persona inizia a ragionare così ha finito per pensare come il nemico i martiri non hanno mai dimenticato questo principio dell'amore che l'amore è dare e solo se si dà gratuitamente l'altro si pone la domanda ma chi è questo qua se io invece voglio essere dimostrativo se io voglio convincere l'altro anche l'amore e il servizio ha una fin intenzione che non è quella che dobbiamo avere cioè è dare noi invece vogliamo vedere i risultati i risultati se verranno bene se non viene la stessa cosa capite questo ragionamento ti libera in qualche modo e ti permette di gioire di quello che sei io dico sempre che il problema dei cristiani non è convertire gli altri ma non lasciarsi convertire dagli altri cioè da chi in qualche modo ha posizioni diverse da te negative perché se ha una posizione diverse da te positive l'amore vuol dire modificarsi ma delle volte ci sono persone che sono veramente cattive allora se io divento cattivo con il cattivo alla fine ha vinto il cattivo non so se mi spiego è quello che diceva Nelson Mandela quando interrogandogli gli hanno chiesto ma scusa dopo tutti questi anni di carcere come hai fatto a perdonare il tuo nemico e lui ha fatto una frase che bellissima dice se io non avessi perdonato il mio nemico il mio nemico alla fine avrebbe vinto lui nel momento in cui noi il testo è come il padre ha mandato me anche ho mandato voi amatevi gli uni gli altri restate nel mio amore cioè il modello del nostro amare non è mai l'uomo ma neanche il parroco ma neanche quello che appare guai a uno che trasforma un uomo in leader anche un santo solo dopo la morte per cortesia non abbiate dei modelli i modelli sono sempre riferiti a Cristo altrimenti prima o poi siamo uomini anche il più grande modello può più scivolare perché è umano e cosa ti cade la fede l'unico modello della nostra vita è Gesù Cristo che poi estende la sua amore attraverso più modelli più alcune volte anche quello che mi sembra un antimodello ci può essere un segno del modello di Gesù e io prendo solo quello non trasformate nessuno in capo nessuno perché Cristo è l'unico ecco vorrei in questo momento dire che essendo questa domenica la prossima è già l'ascensione ecco grazie Signore per chi mi hai amato tanto e questo amore grande mi rende santo solo l'amore di Dio mi rende santo e i santi non vogliono essere modelli per gli altri se non sono superbi se non sono superbi buona domenica a tutti grazie mille grazie mille